Spirito guida. Primo incontro. Ho sempre pensato che oltre la mia coscienza, anima, ci fosse qualcosa di più. Sapevo che era qualcosa più grande di quello che io ero e sono. L'incontro. L'11 giugno dell'anno 2001, in tarda serata, finalmente incontrai la parte spirituale di me. Fu una affolgorazione. Capii subito che non ero più io a pensare, che vi era un altro essere dentro di me, non un estraneo, ma la mia vera essenza. Quella sera, dopo aver mangiato a letto qualcosa, ero solo, accesi il televisore, ma non c'era nulla di interessante da vedere. Così tolsi l'audio e mi misi a leggere La ragione del dolore, di Kempis, un'entità del cerchio Firenze 77. Facevo l'avvocato del diavolo e cercavo di confutare le verità enunciate da lui, usando tutti i mezzi a mia disposizione per metterlo in difficoltà. A ogni mia parentesi egli rispondeva con argomenti così logici che stavo per accettare per l'ennesima volta tutte le verità da lui enunciate quando una presenza si manifestò intervenendo nel discorso. In pochi secondi le sue verità avvolsero il discorso e lo chiarirono, delineando le motivazioni del perché Kempis sosteneva quella verità. Mentre il mio vero essere si manifestava, potei godere della sua grandezza. Egli trasferì tutto il suo sapere alla parte cosciente di me, ma lo fece in una maniera così veloce che non riuscì a memorizzarlo. Andava più veloce di tutti i computer della terra messi insieme. Mi trasmetteva tanta pace. Ero io. Quello lì ero io. Incredibile. Sono stato con me quasi un'ora e ho potuto ascoltarlo, se così si può dire, nelle sue varie analisi. Sembrava volermi insegnare il metodo con cui si affronta un problema, sempre tenendo presente i miei limiti umani. Ogni aspetto della realtà veniva considerato. Nulla era lasciato al caso, perché ogni aspetto era importante come se non fosse una parentesi. Ogni elemento trovava la giusta collocazione e l'analisi procedeva spedita ricca di quella sapienza che era ed è in lui. Purtroppo qui sulla terra non sarà mai in me completamente. Certamente posso sperarlo. Posso creare le condizioni favorevoli alla sua manifestazione. E forse, anche quando non è presente in quella maniera folgorante, egli si farà sentire. Io lo spero. E farò di tutto per stare ancora in sua compagnia. La prossima volta, se ci sarà, porrò più attenzione ai suoi discorsi. Non me ne starò lì in ebetito a crogiolarmi sulla grandezza del mio spirito. È stata un'esperienza troppo forte, troppo meravigliosa. Da vivere e basta. Perché in quel momento non potevo fare altro se non lasciare scorrere il turbinio delle emozioni. Contemporaneamente, lui si manifestava ed io l'ascoltavo, quasi in adorazione di me stesso. Non credevo di possedere uno spirito così. Nessuno può immaginare una cosa simile se non l'ha mai provata. È una realtà nuova, qualcosa che innesca un meccanismo nuovo, un nuovo punto di vista da cui analizzare la realtà. Tutto viene nuovamente messo in discussione. Ogni cosa dovrà trovare la sua nuova collocazione e la verità da noi posseduta subirà delle trasformazioni radicali. Ogni essere umano, quindi, ha dentro di sé uno spirito, un coinquilino che non sa di possedere. Qualcosa di bello, di grande, molto più grande di quello che noi possiamo immaginare. Pochi giorni dopo, comprai un computer e iniziai a scrivere. Per diverso tempo ho avuto paura di essere impazzito, tanto da riprogrammare la mia vita tenendo presente la nuova realtà. Trovai un po' di pace quando andai a cercare fra gli scritti dell'entità A, sperando di trovare una spiegazione al fenomeno da me vissuto e così è stato. Avevo già letto sia Dialoghi con la dimensione X che Conloqui con A di Giorgio Di Simone, edizioni mediterranee, ma non so per quale motivo avevo completamente dimenticato che il problema era già stato trattato ampiamente.